Salve, oggi parleremo dell'egoismo. Chi è l'egoista? L'egoista è una persona che ha uno sguardo miope sulle cose. Le percepisce non come totalità, bensì in maniera parziale, alla maniera di Picasso, oppure come fanno i bambini, vale a dire un pezzettino alla volta. Con l'espressione oggetto parziale si intende la preponderanza di una parte sul tutto. Ad esempio di una donna o di un uomo noi vediamo soltanto un determinato attributo fisico, per esempio le labbra, il seno, il bacino. Questi aspetti parziali dovrebbero rendere conto di tutto il resto. Quindi l'egoista parte da un dettaglio e in base a quel dettaglio deduce qualcosa di globale. In pratica generalizza. Per generalizzare l'egoista proietta sull'oggetto parziale qualcosa che non vede in se stesso. E l'egoista vuole questo oggetto, lo desidera perché è convinto che l'oggetto sia essenziale per lui. Che funzione ha questo oggetto parziale? L'oggetto parziale ha la funzione di ridurre l'ansia e quindi di impedire la conflittualità intrinseca in una relazione affettiva complessa. Com'è che si riduce l'ansia? Si riduce in quanto l'egoista pone l'altro su un piano irraggiungibile e quindi simbolico. Questa si chiama cultura dell'illusione. L'egoista soffre della cultura dell'illusione ed è proprio questo tipo di cultura che sta alla base della nostra società. Una cultura nella quale l'oggetto rappresenta sempre qualcos'altro, non rappresenta mai se stesso. E queste sono anche le modalità del narcisista o del bambino che quando si relaziona con la figura materna non la percepisce come una individualità autonoma e separata da lui, ma la percepisce come una sua appendice delle sue necessità e dei suoi bisogni e quindi del proprio desiderio illimitato. L'egoista in altri termini non riesce a vedere il partner come una figura intera, ma vede soltanto delle parti, come se vedesse un solo lato del volto. Questo avviene per un'esigenza di controllo onnipotente, in quanto un oggetto parziale e quindi una parte è sempre più controllabile e manipolabile rispetto alla totalità. La totalità fa paura, è complessa da controllare. Quindi l'egoista preferisce controllare delle parti. La visione dell'egoista è una visione per così dire televisiva, cioè parziale o anche aggiustata, una visione modellata, truccata, in funzione appunto di un desiderio che sta alla base. E questa è la logica dell'oggetto parziale, che viene rimodellato in funzione di uno scopo. Il risultato di questo meccanismo è che l'egoista non riesce ad accedere alla soggettività dell'altro, pertanto lo trasforma in un oggetto strumentale di possesso e di controllo. In altre parole, l'altro diventa un contenitore vuoto, che viene invaso e animato dalle proiezioni dell'egoista, ed è un oggetto che viene riempito da ciò che l'egoista vuole. Ovvero, l'oggetto viene colmato significati proiettati che non sono reali, quindi il partner viene tipicamente idealizzato. Ma questo tipo di relazioni non può avere, non può funzionare, non è una unione profonda, ma in realtà sono relazioni inconsistenti, perché l'altro viene disconosciuto nella sua individualità psicologica. Infatti, l'egoista non pone alcuna attenzione alla particolarità dell'altro o alla sua storia. In un certo senso l'egoista è proprio come il narcisista, che vive in funzione di uno sguardo riflesso, che però è il suo, non è lo sguardo reale dell'altro, per cui l'altro cessa di esistere, sparisce e diventa come un'ombra. La persona egoista non ha il coraggio di mettersi in discussione, perché il suo io è fragile, e allora si difende, si irrigidisce. La rigidità dell'egoista su un piano psichico nasce dalla carenza di permeabilità tra l'io e l'inconscio, per cui è barricato in se stesso, e non ha il coraggio di confrontarsi con un altro. Il vero confronto con l'altro è un gioco coraggioso che implica un atteggiamento di apertura. L'egoista non sa aprirsi al nuovo, è ancorato ad un vecchio schema mentale, e quindi è rigido, si difende, ma queste difese andrebbero destrutturate. Il suo io dovrebbe cedere un po' del suo egoismo. Invece l'egoista resta ossessionato dalla volontà di potenza, che è volta al dominio dell'altro. L'egoista deruba l'altro del suo spazio, perché non è disposto a sacrificare la propria parola. Non cede spazio alla parola dell'altro, pertanto seduce l'altro abbagliandolo di parole grandiose, invadendo tutto lo spazio possibile. Ma un rapporto basato su questi presupposti è destinato a fallire, perché l'altro non viene riconosciuto e compreso nella sua individualità, ma è strumentalizzato e parcellizzato come un oggetto parziale, che quando non serve più viene scartato. Dall'egoismo si può guarire con una buona psicoterapia. Bene, io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online, sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche, oppure via mail. Per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo questo messaggio. Come funziona la consulenza? Especificando il vostro nome e cognome e i vostri orari preferiti. Inoltre potete visitare il mio canale youtube, dove troverete oltre 400 video. Sono presente anche su facebook, dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia. In bocca al lupo.